musica musica la grutta al biscotto che è più o meno pavimentato la strada, dalla grutta al biscotto iniziamo il sentiero, con questo, poi decidiamo cosa stanno la variante, una parte alta o una parte bassa, la parte alta c'è da una parte alta? no, no, è più o meno la stessa cosa, mentre la parte alta qua sali e poi scendi, la parte bassa scendi e poi sali, poi si ricongiunge qua e arriviamo a Nocella, poi da Nocella diciamo che il programma prevede arrivati giù appositano, però se qualcuno se la sente, c'è il boomale che ognuno parte da Nocella e arriva giù appositano magari c'è. Grazie a tutti. 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 a tutti.